salve a tutti e ben ritrovati in un nuovo sfavillante episodio di let for that 2 sempre qui con me insieme ci sono lara e l'enna le sfavillanti ciao a tutti ciao ciao sono rimasta le cime di rapa ancora le cime è che abbiamo fame sì ecco non si nota guardi no allora anche se ho presentato io la partita la l'ha fatta lara esatto quindi se dove andremo stavolta allora sotto andiamo al centro di morte si chiama l'hotel l'hotel ecco e quindi sediamo e vediamo di che morte dove morire esatto io sono nick quello che l'altra volta si fregava i meriti e dev e coach che io l'altra l'esatto sempre quella dell'altra volta esatto quindi detto questo damose giusto damose comunque lei sta scegliendo in ordine le mappe giusto e adesso sto ho scelto quella dopo quella della diciamo l'ultima che abbiamo fatto no mi sembra perché sennò poi dopo ripetiamo sempre le stesse che in realtà questi bisognerebbe farlo in sequenza ecco ma perché non l'abbiamo fatto in sequenza non lo so io non sapevo neanche che si potessero fare in sequenza la prima comincia proprio dagli appartamenti cioè da qui esatto non è bellissima questa ecco quindi adesso ah già questo non si può giocare con il pad giusto se è no questo è mouse e tastiero guardate come come l'altra volta mi faranno fuori i miei compagni col fuoco amico perché anche a me mi hanno fatto fuori come no io l'ho presa eccola è però ti butta la pistola o no ah sì però c'è l'accetto e tanta roba vabbè damose andiamo con questa gli accetti gli accetto tutti mi raccomando il fuoco amico aiuta poi dove siete sentato in una stanza qualcosa qui o happy day no e poi nick adesso sei tu led infatti chi è che sta sbattendo chi è reloaded no è roscello reload ops e questo perché c'ho tutta non sparare ai tuoi amici ma io lo dice anche lo voglio voglio e lo so eccola che c'è la vita la sbomitazza la sbomitazza verde ha ucciso uno spitter la rapada one ma dove dobbiamo andare di qua dritto dritto in corridoio no ma non è ruscello che ha ucciso che fa video è stata lei reloaded ruscello ma muoviti ruscello dai manca poco casco di sotto che segui lena adesso si prende i meriti questa questa azione attenzione il quadro oh oh mi spari a me no sono stata molto attenta no no lei con due pistole dev anche Laura è vero mortacci stracci tua te ne ha morì ammazzato te ne ha fatti la malazia allora dobbiamo andare dall'altra parte ragazzi dobbiamo superare il fuoco il fuoco e il charger che fino a fatto è l'ammazzato Rochelle credo ti ha protetto Rochelle c'è qua la cartigianica adrenalina uh Len mi ha protetto non mi sono manco accorto vamos mortacci mi hai fatto prendere in coccolone Len si è arrabbiata sono io ah Bev scusa reloaded c'è bombolo no 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 aiutatemi ragazzi su per cadere di sotto la bomba l'ho lanciata io ma vaffanbrodo no 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 sono mossa no so poco è grazie siete passati nel fuoco dritto per dritto un corridoio lara aspetta che lei sta dietro e perché non voglio passare nel fuoco di riva san e fuori al suo passare in fuoco e io ho aperto la porta vabbè ma allora se c'è deve che ci rimango oltre allora fa del giro e fate che arriva arrivo arrivo sto arrivando di qui ok no no è ma sempre io però ma da anoro shell cosa fai cosa ha fatto passato ma ma non si sputa vergogna proprio adesso ci si è morto sì e poi mi sono girato da un'altra parte è stato bellissimo quando stanno le doppiette rio del disco dove sta il tubo bomba ecco che c'è stato signorina prendiamo ascensore ragazzi ascensore ultimo colpo me l'ha dovuto far sprecare ma se stanno raggiungendo adesso giusto musica no ma che che succede stiamo andando in un uomo mia nel nido o o aprile soffochiamo aprile porte ok adesso si ragiona ma no moriamo no anzi capisce niente allora dobbiamo uscire ragazzi dobbiamo uscire da qualche parte non qui della della verso l'orda verso l'orda verso l'orda da dove l'orda l'em ci segua no io non ci vedo più perché vedo tutto per l'orda verso l'orda no 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 attenzione attenzione dove attenzione rochelle dove stanno dai qua dai qua dai qua l'ho trovata l'ho trovata venite io non so come ho fatto alla cieca alla cieca sono andata oh ecco 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 si 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 aspetta ti vedo ti vedo sono qui no 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 rochelle dove è l'em aiuto aiuto dov'è non è qua no andai che devo ricaricare ma rochelle però potevi anche fare qualcosa eh ma ti stavo curando io eh no sono proprio morto ah proprio morto eh deve però levati dal laccio eh vabbè vabbè stai nel fuoco stai nel fuoco è fuoco no vabbè ma no c'è un bomber oh mamma dobbiamo girare arriva l'orda arriva l'orda aiuta ma dove sei l'em eh sono morto il fuoco cioè morta proprio il mio cadavere è stato è stato bruciato andiamo 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 adesso allora andiamo siamo noi adesso eccola la volta no ma adesso appena arrivate appena arrivate qui dovrei dovrei tornare in vita anch'io oh cosa è successo questo dai tev dove sei ma raro aspetta che ho trovato un defibrillacoso no no vieni tanto adesso ma tanto adesso non serve no ma non serve perché adesso tornavo in vita ma una volta che entrate nella stanza dovrei tornare in vita no no eh sì eh certo andiamo è morta di nuovo ma come mi hai dato fuoco mi hai rianimato per lasciarmi nel fuoco ok dai grazie ragazzi prego non si abbandonano i compagni no il boomer non ci credo lorda tutti addosso a me entriamo 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 ragazzi venite venite eh non riesco a muovermi ma come si corre qua non si corre molto bene ci sei dev sì dai vieni 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 ce l'abbiamo fatto oh dai ah non si può adesso dopo ci curiamo dopo siamo al sicuro per il momento è stata una lotta molto confusa eh sì qua perché c'è il fuoco devi stare attento a un sacco di cose adesso dovremmo uscire giusto eh non me lo ricordo veramente ok allora vediamo un po' se posso prendere un'altra arma prendo questo mi stanno curando grazie chi è? dovrebbe essere Rochelle sto prendo io ok siamo pronti? no mi sto curando io non so se tenermi la pistola ma io terrei la pistola dai andiamo? siamo nel campeggio ah ok però dai che siamo fuori almeno ti provociamo reload no I'm reloaded lei non infastidisca le witch mi raccomando si preoccupi ci penso io c'era un ammazzo di zomboidi e gli ho dato fuoco scusate reloaded vedi come vanno a fuoco ecco l'ordano attenzione attenzione a quello che chi si è messo qua? reloaded rochelle ma che è successo a rochelle? non giochi nooo i need you help vaffanculo giochi da me ma no ma pure io cercato di salvarti no Rochelle ma io boh dai dai no no come si fa? si comunque urlate che siete una cosa veramente ma io boh come si ressa? me ne scordo sempre coi 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 ah coi perchè io sparavo a lei andiamo bene andiamo dammo non sei ma aspetta che mi aspettate vediamo che c'è qua mi curo devi oh sorry rochelle scusa mi vuoi curare ciccia oh rochelle si curi pure a me rochelle pronto? che faccia schifata rochelle ci curi rochelle è terrorizzata oh occhio che qua c'è la witch mi raccomando dov'è la witch? eh no ah aspetta ma perché poverina lei ha bisogno di essere curata aspetta vieni vieni qua vieni qua che ti curo io no scusami no e dai lo sapevo che lo prendevo io in del posto guarda l'orda porca d'una no 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 ma hanno preso ok porca avuto affasciadissima ma io l'ho visto saltare che cazzo è successo curati curati si si mi curo copritemi però ma ok dobbiamo coprire e non c'ho una coperta damose una spiritosso cosa ha preso lei di cosa si è impossessata ecco la witch appunto uuu è stato bellissimo rochelle si tiene ma vaffan cuore mi levi le mani di dosso testo coglione testo coglione dove sta rochelle ma che guardi in alto eh ma non mi dà l'opzione per curarla però eh devi devi selezionare devi selezionare il coso e poi gliela dai giusto giusto arrivano no mi sentivo io da lontano ma dove andrò di qua ok damose damose c'è qualche arma ok qua c'è una pistola lontano rochelle te mortacci tua giusto no perchè infatti ti do la witch ma sempre lei perchè bisogna ucciderla ahahahah beeeel eeeeh salute è tutti qua no ma tutti qua sono ahahahah mi sto curando cubritemi ok non c'è nessuno no damose e io ho uno sputo di vita cerchiamo di usarlo bene ho una molotov che non ho paura di usarla reloaded no sono caduto di nuovo sparato io ah ok allora va bene i'm so sorry chi è chi è che arriva no ma dai giochi però sei anche un infame e adesso dobbiamo scavalcare len vieni qua cosa stai facendo cosa stai facendo ti ho spiaccino del virus invece di volare oh io non sto sparando i compagni ma che cazzo guarda stanno andando tutti quanti verso la bomboletta che ho sparato io a len è vero quindi serve per attirarli vedi sappiamo una cosa è stata una grande idea io devo curare penso che la bomboletta quella spray ma lei si confonde con resident evil è capito deformazione non giochi 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 io sono andata in faccia reloaded ma io questo non me lo prendo are you si infatti i'm about to die no allora damo sei prima che torna io vedrò così per tutto l'episodio cioè è anche nero che sto per morire eh non c'ho niente per curate pensavo che la bomboletta era la bombetta ah no pensavo fosse allora occhio che qui ci stanno io ho capito bene lei le ha lanciato la bile la bile io ho lasciato sì io ho lanciato ah questo qua però è stato è stato bello perché li ha tirati tutti sì a Isa andavano tutti verso la bomboletta verso verso quella andavano uh arriva quello grosso dove dove datemene un po' anche a me oh reload ah non è un barrigo quello eh però anche se sono in fin di vita sto facendo la mia parte ti hai visto non so cos'è successo venga che qui c'è un kit medico venga sento che un giochi eh però i giochi prendono sempre lei ma vabbè ma dove va è lui che mi trascina rochelle mi ha aiutato c'è un kit medico anche per me eh non vi sto uno ecco ma baffan cuore ma che è mi stavo curando ma scusa no ma questa aggressitudine sto per morendo io sto per morendo ve lo dico ma chiudete le porte ma infatti chiudete le porte ma hanno rotto la porta mortacci oh vediamo se eh c'è l'adrenalina aspettate che mi vuoi curare sei pazziccata Lara sì mi sono pazziccata sì perché occhio che ce n'è uno dietro ma dove stai tu Len? eh io sono morta dove sei morta? eh sono morta giù ma che cazzo ma dove sei? giù dove? eh qua da qualche parte dove sei tu qua? ecco te eh non ti posso rianirà non c'ho eh lo so no sono proprio morta morta mi stavo curando però magari se entrate nella stanzetta poi mi rianimo eh sì sicuramente sì Rochelle mi ha salvato come mi ha salvato Rochelle? hai capito a Rochelle? grazie Rochelle ma dai thank you vedi dove non arriviamo noi arriva Rochelle eh meno male che fa qualcosa ok in compenso in compenso mi è rimasta una pistola di merda oh no Jackie dove? che non lo vedo eh lo sento però eccolo eccolo ecco mo mi viene guarda cretino eh è morto sediamo? no non è morto il cretino eh lo sapevo lo sapevo lo sapevo dov'è? morto damose dai che siamo quasi arrivati eh lorda dove? qua qua ma che affanno I tuffi alla cagnola Si buttano Si buttano Oh 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 Roscire ma non ti accorgi che c'hai uno dietro Ma chi mi ha curato? Mi l'avevo curato io L'abbiamo fatta C'è un kit medico qua Che c'è stato? Serve a qualcuno Lara forse serve a te il kit Ma è sparito No vabbè lo uso io Visto che mi serve Cioè vedi tutti altruissimi Vabbè ma io sto bene Ma io ce l'ho Ce l'ho stavo scherzando Ok diamose Che cazzo Oh aiuto Ok Una volta che avanzo da solo Andiamo Guarda che siamo qua Siamo arrivati Ma questi li li ha uccisi noi? E' morto quello Siamo arrivati Taglie Roscello no Che è successo? No Ma voi siete già entrati? No 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 ma non è Non è la porta quella Ah non è Ma che cazzo è? Sto charger da me Oh ma voi morì Ce la faccio Ce la faccio Prima o poi ce la faccio Ma guarda te se si può Ma tu dimmi Roscello Dov'è Roscello? Roscello sei morto Roscello Dai che si è sacrificata per noi Roscello Una di noi Insomma quello Dai che qui ci stanno i kit medici ragazzi Se avete bisogno Oh dove stanno tutte queste cose? Ah qua dentro Rende più precisa la tua arma Figo Ah qui adesso il proprietario Rendete Rendete i kit medico L'ho preso L'ho preso Mirino latte Eh ci serviva Rochelle però Ah ho capito Che è? Allora prendo questo Allora Dobbiamo andare qua ragazzi Io vorrei capire se Aspetta Ah questa è carina però Forse è meglio questa È il peccola È il mirino come si usa? Dov'è? Dov'è azz'alzana? Ah recupera i sopravvissuti Aspetta che arrivi Ma dove sta? Sta qua sotto Ma dove è? Rochelle sta qui Dove? È qui Somebody help Eh ma pensavo fosse morta Ma non si può passare qua No Ah no è di qua Ma sta stronza Ma sta qui Vabbè intanto andiamo a fare Quello che dobbiamo fare Intanto andiamo È complicata I need you help Un attimino Che dobbiamo I need you help Noi prima Oh Preparatevi a combattere Ma dove si sono finiti? Ma tu sai Che qui Mori All'orda Aiuta Ah state qua Ecco Ma che c'è fate lì Dobbiamo venire qui Dobbiamo venire qui Dovevamo venire La cola La cola Eh appunto Ci abbiamo una web da fare Eh sì ma io sono rimasto bloccato qua Non mi muovo Perché? Tutti i nuovi? E c'ho l'orda Recupera Tanto recupero la propria cola Ah 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 Faffanculo Sono a terra comunque Aspetta aspetta che adesso arriviamo Fammi prendere questa ma che cazzo abbiamo moro io no è finita o mamma no eccomi ecco no 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 mettete in qualche posto in alto no ma non arrivate qua infuocati che mi date fuoco anche a me si capisce guarda che roba il fucile non si è rivelato la più grande delle armi perché va ma che ok beh però è andata meglio di quanto grazie alla cula che serviva andiamo adesso dobbiamo riempire riandare dal tizio dove 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 stavamo prima la cola no lasciami lasciami ma mollate mi una bomba len ma non mi molla stracci vostri ho dovuto mollare la cosa sola per terra la mia ma c'era che tu la coca cola si ce l'ha lara ma nevo portare al proprietario sto andando dove stavamo prima no mi lascia in pace mi lascia in pace taci stracci vostri ma come facciamo ad arrivare dove stai tu non ci vediamo dove fai il giro non muovo il gip no io dovevo fai il giro magari si riesca a portare la coca cola io e niente glenn ma questo è difficile però mi sono difesa fino alla fine e levatevi dal cazzo non mi piglio la ok fatta ok grazie mille guarda che quella lì è ancora lì che chiede aiuto Rochelle non so che cosa sto facendo ho fatto l'adrenalina e di fatto no e io sono morta ma come sei morta io bo e guarda quanti zombie che mi hanno attaccato non potevo fare altro oh meno male che sei arrivato Lara alla buona ora che video ma io stavo consegnando la quest dov'è l'enno? e sono lì in mezzo qui? sono lì in mezzo sì e da quelle parti eh però non posso far niente eh no e non c'è neanche Rochelle che può curarmi dobbiamo andare via da qua eh Dev arrivo però no no ha preso l'ascia che c'è qua? ah anche lei ha finito i colpi ma dov'è l'Ed? è è morta dobbiamo andare qua 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 forza forza eh c'è un comitato di bellissimo uh c'è sì c'è il comitato di accoglienza c'è il jockey eccolo sei rimasto da sola Lara ok dobbiamo cercare c'ho solo 5 colpi dobbiamo arrivare al supermercato io sento un ringhio il tubo bomba dove sta aspetta Lara eh dove cazzo sta qua sul tavolo ok lo prendo pure io io ho preso una moto io ho preso il tubo bomba io controllo che c'è in questa tenda uh la k dove sta ecco oh guarda se lo piglia sto moglione oh guarda te mi sa che c'è poi un kit medical lì eh un attimo uh un charge no sono morta no il charge e niente basta basta va bene ci ritroviamo la prossima volta ripartiamo da qua praticamente ok no chiudete la porta è chiusa è chiusa ah ok ok beh insomma è stata più difficile eh perché qui c'è anche la quest da fare capito quello dice andatevi a prendere la coca cola e io e poi dopo ci dice andate al supermercato capito e lì praticamente c'è poi la porta e va bene allora ci rivediamo sempre qui al prossimo episodio e ciao a tutti vedete i nostri punti di vista e niente ciao 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 ciao